Gianluca Vella, a te il compito di presentare il collettivo, tu sei un incisore e sei uno di questo gruppo di creativi che ha deciso di mettersi insieme e che stasera vedremo per la prima volta all'opera. Ok, perfetto. Il collettivo Regno di Amataria è nato molto per gioco tra amici, è nato precisamente in un viaggio che abbiamo fatto a Bologna, Fiera del Libro, con altri ragazzi dell'Accademia di Belle Arti di Napoli e l'abbiamo portato ad Avellino, la nostra città, perché non riusciamo a trovarci a livello artistico. Il collettivo è composto da Andrea Matarazzo, incisore anche lui, Mattia, Virginio, Elena, Stefano Cucciniello e pian piano cercheremo di fare eventi e porteremo a livello artistico la città di Avellino. Senti, l'età media più o meno qual è? Sui 30 mi pare di capire? Tra i 20 anni e i 30. Ok, Andrea, tu invece, anche tu sei incisore, abbiamo detto, cultore della materia all'Accademia di Belle Arti. Raccontaci un attimo, come dire, l'obiettivo, l'intenzione di questo collettivo che in effetti è una bella prova anche un po' di resilienza, perché lamentarsi è facile per tutti, fare qualcosa invece è di meno persone. Diciamo che la nostra missione è quella di riportare l'arte, soprattutto l'arte grafica ad Avellino, che è un'arte che praticamente si è quasi estinta nella nostra città e quindi nasce dall'esigenza di esprimersi con il linguaggio delle arti grafiche, quindi dell'incisione e questo progetto vuole coinvolgere anche altri aspetti e altre persone, quindi entreremo anche nel campo editoriale, nel fumetto con delle strisce a fumetti che riguardano la nostra esperienza sul regno di Amatari e quindi racconta la nostra storia. Quindi alla fine questo, cioè riportare sulla scena molto le arti grafiche e anche i racconti su questo regno e quindi far divertire il pubblico ma portare anche temi importanti per quanto riguarda l'arte. Andrea, il teaser che avete pubblicato su Instagram ha creato molta curiosità, c'è questo piccolo teschio che scricchiola. Ci vuoi raccontare, anche anticipandoci qualcosina sulla storia di questo regno, perché questo teschio, perché scricchiola? Allora, il teschio in realtà sta scricchiolando perché sta schiarendo la voce, quindi prossimamente parlerà sui social e ci dirà delle cose che riguardano il collettivo, quindi racconterà lui la storia di questo regno, insieme poi ad altri interventi di artisti e di persone che racconteranno la storia. Un'idea molto creativa e anche molto ben realizzata da un punto di vista estetico, artistico e anche in grado di creare un'emozione come la curiosità, che insomma è sempre preludio di nuove cose, di nuove scoperte, quindi di questo sicuramente siamo grati a questo collettivo. Adesso passerei la parola a Mattia Di Paolo. Mattia, tu sei uno scenografo e spiegaci un po' cosa succede qui stasera, anzi diciamo approfittiamo per dire che siamo in un bellissimo studio nel centro storico di Avellino, a Tilt Tattoo, poi conosceremo anche meglio l'anima di questo luogo e l'anfitrione di questa serata. Intanto Mattia, raccontaci cosa succederà, che sarà una performance. Allora stasera è la prima tappa di questo percorso che nasce e stasera ci sarà una performance artistica in base grafica che realizzeranno i ragazzi. Il mio ruolo qui è stato quello di allestire tutta la mostra, di curare proprio la mostra in sé. Io mi auguro perché è un nostro sogno che questa prima tappa sia una chiamata per gli artisti, proprio perché molti giovani non riescono ad esprimere la propria arte e grazie alle performance che noi vogliamo fare in futuro, come stasera, vogliamo proprio che i ragazzi si avvicinano al mondo dell'arte, perché una città senza arte è una città destinata proprio a scomparire e a morire. Stasera invece mi auguro che molte persone accettano questa chiamata e molti giovani, dopo che Gianluca e Andrea eseguiranno questa performance, si avvicinano al mondo dell'arte. Spieghiamo proprio in pratica, magari per chi non sa bene come funziona l'incisione, che cosa si farà qui tra qualche ora? È una stampa su monotipo, stampa d'arte proprio, tipo di tecnica di xilografia. Forse Andrea ce la vuole entrare più nel tecnico. Allora diciamo che quello che portiamo stasera sono le due facce della stessa medaglia che rappresentano un po' la città di Avellino, cioè il bianco e il nero di questa città. La xilografia che è una tecnica molto antica di intaglio, l'incisione, quindi nasce addirittura nelle caverne, quindi con le incisioni rupestri e le pitture rupestri, sono questi i due percorsi che si facevano nell'antichità. Poi la xilografia continuando diventa in Egitto praticamente una forma per decorare i tessuti, quindi è un'arte molto antica. Nasce anche in Cina per creare dei libretti per quanto riguardano la religione e poi in Europa arriva per raccontare le carte da gioco, quindi nasce anche questa per gioco, si ritrova con il regno del Mataria perfettamente. E poi presentiamo e portiamo il monotipo, che quindi è un'arte che ha bisogno di molto meno tempo per essere espressa, perché praticamente le matrici che noi inchiostreremo verranno realizzate al momento. Quindi xilografia che ha bisogno di tempo, mentre il monotipo che è un tipo di lavoro diretto ed è un'espressione pittorica della grafica d'arte. Roberto Pontis è l'anfitrione di questa performance, di questa serata, perché siamo qui nel cuore del centro storico, Tilt Tattoo è il nome del suo studio, lui è un tattoo artist, ma è anche una persona che ama l'arte più in generale. E di fatti, diciamo, questo appuntamento è stato in un certo senso da lui pensato, auspicato da tempo. Sì, praticamente era tempo che praticamente stavo cercando di organizzare questo evento, questa iniziativa che promuoveste appunto questo collettivo ed è un piacere ospitarli qui stasera da noi e che questo evento ovviamente si terrà verso le 19. Colgo tutti a partecipare ed è un invito insomma alla città di Avellino a partecipare appunto a questa iniziativa che fa bene al territorio dell'Irpinia, via Avellino. In questo mondo di virtualità qual è il piacere dell'inchiostro, quello fisico, quello che si poggia diciamo con con la pressione della mano, ora sulla pelle, ora sulla carta, come vedremo più tardi. Qual è la magia dell'inchiostro per te? Qual è, scusami? La magia dell'inchiostro. La magia dell'inchiostro, diciamo che comunque è una forma d'arte che prende forma sulla pelle e quindi diciamo che i tatuaggi ovviamente oggigiorno raccontano più o meno la storia dell'individuo, cioè la storia di quello che vivere anche legato anche, non so, a un'emozione che vive la persona nel farsi un tatuaggio.